Cresce l'emergenza abitativa, Pistoia e il Comune ha stanziato 100.000 euro per il contributo affitti, un contributo che va ad incrementare il fondo in aiuto della popolazione con fascia economica più bassa insieme alla somma stanziata dalla Regione, la quale deve ancora rendere noto l'importo di sua competenza che comunque arriverà nelle casse comunali entro la fine del 2014. Intanto il Comune di Pistoia rende noto che l'elenco dei soggetti che hanno diritto al beneficio è già stato trasmesso agli uffici regionali e a breve sarà inviato alla Guardia di Finanza per i relativi controlli. Quest'anno le domande pervenute sono state 723 di cui 581 ammesse e 142 escluse principalmente per reddito superiore a quello individuato nel bando, per mancanza di residenza a Pistoia, per essere arrivate oltre il termine stabilito o per documentazione mancante. Il contributo a integrazione del canone di locazione verrà erogato in un'unica soluzione nel corso del 2015 esclusivamente a seguito della presentazione della documentazione che attesta l'effettivo pagamento dell'affitto. Grazie a tutti.